La mia madre non vuole che apri quando sto sola, e io perciò apri. Si è nato tanto, e vuoi dire che si è nato tanto? Si. Vuoi qualcosa? No, no, ho già piato il caffè, sto a posto, non ti preoccupare. Come stanno i tuoi fratelli? Ma che chiede i tuoi batti all'occhio? La mia madre ti fa rire i tuoi batti all'occhio? Si, perché li chiami così? Perché sono due batti all'occhio. Chi le frate mi è batti all'occhio, è talmente batti all'occhio che quando mi chiami così, sai come fa con l'occhio qua? Mi fa troppo rire il batti all'occhio. Chi le è batti all'occhio perché se mi sei una amica tua, Angela, si mi sa fare amore con questo. Solo che chi le è più batti all'occhio è questo. Batti all'occhio perché la tua volta c'è la città, ma tu l'hai passata un'occhio. Chi le ha fatto? Si, qualche foto. Hai capito? Ma ci hai fatto una fissa, una fissa, una fissa. Chi le ha fatto? No, perché ha rispetto. Ma come si fa con la femminile ha rispetto? Vuoi dire il numero che hai batti all'occhio. Invece poi... Chi le ha batti all'occhio adesso? Ma si è messo con un amico scienziato di Tonino. Roberto. Per essere Roberto più bello, più intelligente, più meglio e tutto quanto. E poi credo pure lo signore. Pure voglio una ragazza con, pure che lei è Milano. Pensi allo stesso modo di Giuliana. Solo che io e gli amici mi hanno pensato così. Forse vi sbagliate. Forse ha ragione Giuliana. E secondo te allora... Qual è invece Robert? È un batti l'occhio. Brava Gianni. Basta, corre, poi torna mia mamma. Vieni raggiù.